Il libro è una raccolta di testimonianze di bambini che hanno sconfitto la malattia, madri e padri che hanno perso bambini che non hanno sconfitto la malattia e volontari che hanno vissuto al fianco di questi bambini malati, di questi genitori. È una storia di sofferenza, è una storia di perdita, di tragedie familiari, ma è anche una storia di speranza, è una storia di solidarietà. Il titolo Un bicchiere d'acqua fresca è la metafora dell'aiuto che ognuno di noi può dare agli altri, un piccolo gesto per aiutare gli altri. Yudmila Ulitskaya, che è oggi una delle scrittrici contemporanei più note in Russia, fu lei stessa volontaria della prima ora per il gruppo di volontariato Padre Alexander Mann, che è nato alla fine degli anni Ottanta e quindi lei per qualche anno collaborò in questo gruppo e ha deciso di donare i diritti all'associazione. Quanto raccolto dalle vendite di questo libro verrà speso per cosa? Certamente noi abbiamo un sacco di progetti aperti, andiamo da Mosca, andiamo ai bambini di Beslan, vittime del terrorismo, andiamo alla regione di Arkhangelsk, con il mare del Bianco, abbiamo un impegno in Siberia, quindi i proventi di questo volume vanno tutti ai nostri progetti. Noi siamo un'associazione che si basa solo sul volontariato e in 14 anni di attività, mediamente su ogni euro ricevuto di donazione, circa 95-96 centesimi vanno tutti a beneficio dei bambini di Russia. Io vorrei proprio chiedere agli ascoltatori di dare una mano a questa associazione, perché è un'associazione che vale veramente la pena ad aiutare questi bambini, perché i bambini sono il pezzo meno forte di questa catena sociale che c'è in Russia.